Tra le gare che aprono il weekend dei tre gironi nazionali di Serie C c'è anche Catania, Audace e Cerignola, una sfida per evitare i play-out nel gruppo C che in teoria poco dovrebbe interessare alla nostra provincia più concentrata, geograficamente parlando, ad un'altra lotta a salvezza, quella della pergolettese nel girone A. E invece Catania, Audace e Cerignola ha un suo fascino particolare che si collega un migliaio di chilometri più a nord al territorio casalasco. E' infatti il derby tra due figli della zona sud-est della nostra provincia che si sfidano per la prima volta. Da un lato Roberto Zammarini, centrocampista classe 96, oggi al Catania, ma con un passato importante anche in Serie B, ad esempio a Pisa e Pordenone. Dall'altro Davide Barosi, portiere classe 2000 che dopo essere stato nel Mierino dell'Udinese, aver iniziato la stagione all'Ascol in B, chiuso da Viviano e appunto finito ai pugliesi dell'Audace e Cerignola. Un incontro che mette in paglio punti preziosi. Zammarini di Gussola cerca col suo Catania un successo che darebbe senso alla finale di Coppa Italia conquistata. Vincere il trofeo significa infatti andare avanti nella lotteria play-off e saltare alcuni turni, non però se si finisce dentro i play-out e distanti soltanto quattro punti. Il Catania ha vissuto una stagione tribolata, passata da un doppio cambio mister. Prima è saltato Luca Tabbiani, poi Cristiano Lucarelli e ora toccherà Michele Zeo li fare da traghettatore. L'Audace e Cerignola se la passa leggermente meglio, ma non è al sicuro, tanto che qui è stato esonerato Ivan Tisci e al suo posto è appena arrivato Giuseppe Raffaele. Per capire il problema dei pugliesi basta ricordare che dall'arrivo di Barosi, originario di Calvatone, a gennaio, non hanno ancora vinto una partita, pur avendo collezionato pareggi che regalano ad oggi una tranquilla, relativamente quota 40. Insomma una sfida delicata con Zammarini che vorrebbe sigillare il derby casalasco con quello che sarebbe il suo quarto gol stagionale, due in campionato a Benevento e Brindisi, uno in Coppa Italia nei quarti col Pescara e Barosi che di contro cerca la prima gioia da tre punti con l'Audace e Cerignola.